Cinque anni fa Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che era in quella condizione di totale paralisi e spasmi di dolore dopo tre anni di resistenza in quella condizione, mi chiese di aiutarlo ad andare in Svizzera. E io gli dissi, guarda Fabo, possiamo fare in due modi, clandestinamente ti aiuto e non avrai nessun problema, oppure lo facciamo pubblicamente, allora può anche essere che ci siano degli ostacoli, però quello che farai potrà servire magari a degli altri. Era in quella condizione a causa di un incidente d'auto, non aveva allacciato la cintura, era andato fuori strada eccetera e poco prima, pochi minuti prima di morire, chiamò i suoi amici che erano lì e disse vi devo dire una cosa molto importante, allacciatevi le cinture, non mi potreste fare un favore più grande.